Un'azione ad ampio respiro, coordinata dal centro ma articolata in tanti rami. Ben 191 caritas parrocchiali e un gran numero di associazioni caritative. Ne sono note 45. E' stato questo, nell'anno passato, il modus operandi della Caritas diocesana, i cui esiti sono stati illustrati sabato in un incontro con la stampa. Questa rete silenziosa, ma attivissima, costituisce la nostra forza, ha spiegato Monsignor Antonio Allori, incaricato diocesano per la carità, perché è mossa al 90% da volontari, che prestano la loro opera solo per amore del Signore. I dati che emergono configurano un netto aumento dei bisogni e delle emergenze sociali, dovuto alla crisi economica e soprattutto al dilagare della disoccupazione, che colpisce in primo luogo gli stranieri, ma anche gli italiani. Bisogna far sapere agli stranieri che è meglio non venire in Italia, ha affermato accuratamente padre Gabriele Digani, direttore dell'opera Padre Marella, perché il rischio per loro è ridursi a mendicare, perdendo la propria dignità. Da Paolo Mengoli, direttore della Caritas diocesana, è venuta invece una severa disamina della situazione dei servizi sociali a Bologna e provincia. E' evidente, ha sottolineato, che i servizi sociali sono in grave difficoltà, di fronte ad un contesto che cambia in continuazione. E la cosa che più colpisce è la mancanza di pari opportunità sociali, a differenza di quelle sanitarie, nel territorio provinciale. Ogni comune si comporta in modo diverso. La situazione poi si è particolarmente aggravata a partire dal giugno 2008, quando il cambio della guardia tra assessori e servizi sociali ha provocato notevole smarrimento. Ora le risposte alle situazioni di necessità sono sempre più evasive e a lunga scadenza. Come nel caso di un italiano a cui i servizi sociali hanno dato appuntamento per un colloquio dopo 100 giorni. Non si deve filosofeggiare sulla povertà, ma mettersi concretamente al lavoro.